ecco qua poi si registra secondo il peggio mia nonna, mio zio, mia zia, mio padre, mia madre, io, mio fratello più piccolo e mio fratello più grande questo è 1947, ottobre 1947 anni venti questa, questa è sempre mia zia, la seconda zia, questa è la prima zia, questa è la quarta zia, questo è mio padre e mia nonna c'erano le maniche spezzate, si attaccavano con le cose di aggancio di ferro e uscivano fuori le cose bianche, la stoffa bianca la nonna, una è la nonna del mio marito, la nonna, la nonna, il territorio, e una è un'amica sua questo è il mio nonno, il nonno pure di Gianna no, l'azienda, non era male no, l'azienda, non era male no, l'azienda, non era male non pensi si sia, queste sono le pagine di queste mica potevano pure testate, mica potevano andare a braccia scoperte allora, tutte coperte pensa un po' che se un ragazzo ti toglieva il fazzoletto che loro portavano poi sempre in testa non si sposava più, questo poi lo faceva qualche ragazzo che era innamorato di questa ragazza e lei non contragambiava. La donna regalava un fazzoletto col suo nome mi sembra al ragazzo. La donna regalava un vestito bianco? No tutto, perché questa era la famiglia dei miei nonni era una famiglia benestante e allora scrivi il nome per fare una famiglia prima, se no non ci aveva usato, non ci aveva usato, non ci aveva usato, non ci aveva usato, non ci aveva usato.